Musica Si allarga l'inchiesta sulla rissa con accoltellamento che si è verificata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in piazza Vittorio Emanuele a Castelvecchio su Beco. Il nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Sulmona che si sta occupando del caso ha identificato in totale sei giovani coinvolti in vario modo nella discussione. I militari stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune e stanno raccogliendo tutte le testimonianze per valutare le singole posizioni e adottare dei provvedimenti. Nei prossimi giorni per almeno tre dei sei che hanno avuto ruolo da protagonista nella rissa scatterà probabilmente la denuncia alla procura della Repubblica di Sulmona che ha aperto un fascicolo sul caso stando alla ricostruzione effettuata dei militari è venuto fuori che la rissa è scoppiata per futili motivi forse per qualche apprezzamento per una ragazza per un bicchiere di troppo. Alle 3.30 dello scorso 19 luglio nella piazza dei Paesi alcuni giovani si sono affrontati prima con parole e minacce verbali poi con le botte. Nel corso della colluttazione che ha coinvolto principalmente due fratelli romani originari di Molina Terno di 17 e 22 anni e un 27enne di Castelvecchio su Bequo è spuntato un coltello, forse anche una pistola come riferito ai carabinieri da un testimone. A dovere la peggio è stato il 27enne che è stato ferito con una coltellata al torace immediatamente soccorso alle presenti è stato trasferito in ambulanza nell'ospedale di Sulmona dove i medici lo tengono sotto osservazione. La buona notizia tuttavia è arrivata nei giorni scorsi il giovane è fuori pericolo, ne avrà almeno per 20 giorni anche se resta ricoverato per ulteriori accertamenti. L'arma ha sfiorato il polmone. Io ho solo difeso un amico in difficoltà, stavo sedando gli animi quando mi hanno aggredito, ha richiarato i 27enne all'inquirente e nell'immediatezza dei fatti. Anche il 22enne romano è finito in ospedale riportando ferite guaribili in 10 giorni come stabilito dai medici dell'ospedale Peligno. La rissa infatti si è sviluppata in più fasi. Dopo l'aggressione accoltellata in piazza, i due fratelli di Roma sarebbero stati inseguiti nei vicoli paesi da altri giovani del posto che volevano vendicare il loro coetaneo. I carabinieri stanno quindi cercando di ricostruire nel dettaglio l'episodio di violenza chiarendo le singole posizioni. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Le ipotesi di reato sono rissa e lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma e dai futili motivi. Nei prossimi giorni arriveranno i primi avvisi di garanzia. L'episodio ha scosso la piccola comunità di Castelvecchio su Bequo dove non si parla d'altro. Si entra nel vivo della giostra cavalieresca di Sulmona. La città si gioca la carta del turismo. Per gli operatori del settore berghiero il mese di agosto sarà quello decisivo per dare una svolta alla stagione estiva che punta a confermare le 24.000 presenze che si sono registrate lo scorso anno. Dopo un inverno anomalo caratterizzato dall'assenza di neve, gli eventi estivi torna ad essere un attrattore naturale per le aree interne sul mone in primis che torna a ospitare gruppi turistici provenienti dal Canada, dagli USA, da ogni parte d'Italia e d'Europa. La stagione nella città di Ovidio è partita sotto i migliori auspici, anche se negli hotel non si è ancora registrato il tutto esaurito. I numeri sono in linea con il dato regionale che ha fatto registrare un po' ovunque una lieve flessione, interviene Gianluca Casaccia, presidente del consorzio albergatori, confidiamo in un agosto florido, al momento facciamo fatica a mantenere i livelli dell'anno passato che è stato estremamente positivo, aggiunge Casaccia, secondo il quale si riuscirà comunque a centrare l'obiettivo o almeno si farà il massimo. Più ottimista, Domenico Santacroce, presidente dell'associazione albergatore e titolare di tre strutture ricettive in città. Non possiamo lamentarci finora, sono convinto che riusciremo anche a superare le presenze dello scorso anno. Abbiamo un turismo variegato, pronto a valorizzare la natura, il clima, le tradizioni, gli eventi, giostra cavaleresca compresa, visto che siamo in tema, sottolinea Santacroce, che rimarca anche la forza trainante del treno storico della Ferrovia dei Parchi, che anche nel corso della stagione estiva permette ai turisti di conoscere peculiarità e caratteristiche dei piccoli borghi di montagna, mettendosi a bordo dello storico convoglio che parte proprio dalla stazione di Sulmona. Quest'anno oltre 6.000 persone, più dello scorso anno, hanno staccato il biglietto per salire sulla Transiberiana d'Italia. Tuttavia gli operatori del settore non mancano di far notare che per una città turistica è fondamentale potenziare la rete dei servizi, dei bus turistici, dei giorni rossi sul calendario e alle strade che devono essere riparate. Lo scorso anno, il mese di giugno, stando ai lati diffusi della regione, aveva fatto registrare 6.256 pernottamenti negli hotel che si trovano sul territorio comunale di Sulmona. Meglio, era andata a luglio, quando i turisti registrati da personale a Berghiro erano stati 7.007. A battere il record era stato il mese di agosto, con 9.856 presenze turistiche, grazie ai due grandi eventi delle strade sulmonese, la giostra cavaleresca di Sulmona e il festival Montanin Jets. Non è stata un'aggressione, ma una vera e propria rissa che ha coinvolto in prima persona tutti i partecipanti. Lo ha messo nero su bianco il settore anticrimine del commissariato di polizia di Sulmona che ha denunciato 6 persone in procura, tutte comprese dai 30 ai 50 anni d'età, per il violento episodio dello scorso 17 giugno, quando alle 3.30 circa in 4 erano finiti in ospedale al termine di una colluttazione in pieno centro storico. L'indagine era partita dalla denuncia di parte di una cinquantenne titolare di un bar che assieme ad altri tre si era recata in pronto soccorso per farsi refertare le lesioni dovute alle botte ricevute da un trentenne. La discussione era partita da una consumazione non pagata, i toni si sono man mano accesi fino a quando dalle parole si è passati alle mani, pugni, schiaffi, calci. 4 dei 6 protagonisti hanno riportato ferite lievi guaribili dai 7 ai 10 giorni di prognosi, ma tutti, secondo la polizia, sono responsabili del reato di rissa in concorso. Per questo, dopo aver analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza, è scattata la denuncia. Le singole posizioni sono al vaglio della Procura della Repubblica di Sulmona. Segnate entro la fine di agosto le case popolari che ricadono sul territorio comunale di Sulmona. A rassicurare gli 89 cittadini che avevano fatto la domanda è stato il Comune che nel bel mezzo dell'estate sta lavorando per completare le procedure e consegnare le chiare, via gli inquilini che hanno diritto all'alloggio. Il bando era stato pubblicato il 21 settembre 2021 e aveva portato gli uffici comunali a stilare prima una graduatoria provvisoria, poi, come prevede la legge, quella definitiva. Per questo l'assegnazione avverrà breve, come rimarca l'assessore comunale e sociale Paola Fiorino, la quale tuttavia chiarisce che prima bisognerà sistemare gli inquilini della palazzina di via Aldomoro, che sono stati sfrattati dal laser nei giorni scorsi per i lavori di messa in sicurezza da seguire sull'edificio. Abbiamo avuto un incontro per lo scompero, si è deciso di soprassedere, ora ascolteremo le famiglie della palazzina per individuare un alloggio al termine di questa operazione e procederemo all'assegnazione delle case popolari, afferma l'assessore. Le cinque famiglie residenti in via Aldomoro avevano chiesto di controllare le carte, verificare cioè se esiste davvero un problema statico per le singole abitazioni. Tra gli inquilini ci sono anche candidati per la Casa Popolare che hanno protestato, temendo ulteriori ritardi da parte del Comune. Sulla vicenda sono intervenuti recentemente i consiglieri comunali Franco Di Rocco e Luigi Santilli, i quali hanno affermato che ulteriori ingiustificabili ritardi rappresenterebbero una grave violazione dei diritti. L'Associazione Corsa degli Zingari di Pacentro invita la pop star Madonna per la manifestazione storica della prima domenica di settembre. La invitiamo pubblicamente alla nostra manifestazione, la Corsa degli Zingari, che è una corsa plurisecolare dove anche suo nonno Gaetano partecipò. E quanto ha detto il Presidente del Sodalizio Giuseppe De Kellis che organizza la manifestazione? Un percorso che le associazioni e il Comune stanno facendo in sinergia per riportare la star nel paese dei suoi avi. Si sta lavorando in maniera pressante, stiamo cercando di incastrare una serie di situazioni, secondo noi ci sono buone possibilità. Il Presidente si sta impegnando tantissimo e noi come amministrazione comunale siamo a suo fianco, interviene il Sindaco di Pacentro Giuseppe Silvestri. Madonna Luiz Veronica Ciccone è nata il 16 agosto 1958, il padre Silvio Ciccone originario proprio del Comune Peligno è incastonato nel Parco Nazionale della Maiella, finora la pop star più famosa del mondo, regina indiscussa dei palchi nella musica contemporanea, icona e sex symbol di fine Novecento, a Pacentro dove nacque la nonno Gaetano, nonna Michelina non ci ha mai messo piede. Per questo Comune e Corsa degli Zingari sono ripartiti alla carica per concretizzare il sogno di un intero paese, ad invitarla a casa e anche Amelia Vitucci, cugina di Madonna. È stato emozionante, diciamo così, è emozionante vedere che quella star sul palco era una mia parente. Io la invito ufficialmente a venire qui e l'aspetto a braccia aperte. Qui ci sono le sue origini. Dobbiamo sapere da dove veniamo. L'adlinazione nell'ospedale dell'Annunziata, dove nella notte tra venerdì e sabato è stato forzato un armadietto che si trova all'interno della portineria del nuovo corpo ospedaliero, ad accorgersi del furto è stata l'addetta alla guardiania che ha preso servizio alle prime ore del mattino. Dalle prime verifiche è venuto fuori che gli autori del furto hanno portato via materiale vario, mentre non risultano ammanchi di farmaci o di cartelle cliniche. Il caso è stato segnalato immediatamente ai carabinieri della compagnia di Sulmona, che sono intervenuti sul posto per un sopralluogo e per effettuare i rilevi di rito. La struttura è sorvegliata H24, ma può accadere che nel corso della notte l'addetto deve allontanarsi per sbrigare alcune mansioni. Solo con il turno della mattina ci siamo accorti del fatto, commentano dall'ospedale. I militari procederanno nelle prossime ore ad acquistire le immagini delle 33 telecamere di videosorveglianza dell'ospedale, tra aria interna ed esterna, per venire a capo della vicenda. Il giudice di Previdenza del Tribunale di Sulmona, Anna Maria De Santis, ha accolto il ricorso di un 66enne residente a Sulmona che aveva contratto il Covid sul posto di lavoro in una fabbrica che opera in città. Il Tribunale ha condannato l'Inail a risarcire il lavoratore a riconoscergli il 18% di invalidità a causa degli strascichi del contagio, fibrosi polmonare, sindrome depressiva, sindrome da long covid che hanno portato l'operaio ad assentarsi del lavoro per 375 giorni. Il 66enne aveva preso il Covid nell'agosto del 2020 dopo essere entrato in contatto con un collega che era risultato positivo. Viste le pesanti conseguenze fisiche, aveva chiesto all'Inail di riconoscere l'infezione come infortunio sul lavoro. Dopo il no incassato dall'istituto, l'uomo si è rivolto all'avvocato Alessandro Margiotta. Il giudice, dopo aver nominato un pierito, ha riconosciuto quanto chiesto del lavoratore. Si tratta di una delle prime sentenze sul territorio, che apre uno scenario, per dirla con le parole dell'operaio. Crea sicuramente un precedente storico, tuttavia se andrà in appello, visto che l'Inail ha presentato un ricorso. La donna, impaurita, ha chiesto aiuto ai carabinieri. A quel punto si sono immediatamente attivati i vigili del fuoco dell'Aquila e i volontari del soccorso alpino e speleologico, che sono riusciti a darle le coordinate per telefono, permettendole di ritrovare sentiero per tornare a casa. Non c'è stato bisogno dell'intervento sul posto, di uomini ed equipaggi. Dopo la siccità di questi mesi, l'assenza di neve della stagione invernale, il lago a forma di cuore si è abbassato di sei metri, mettendo a rischio la salvaguardia degli ecosistemi. Era già accaduto nel 2012, la pioggia di eri che ha spaventato la turista e sta raccolta come una manna dal cielo dalla popolazione scannese.